Finisce in perità l'atteso derby tra Reggio Calabria e Vibonesi ed è un pereggio prezioso per i ragazzi di Mr. Boucher perché li proietta al primo posto in classifica con Trapani e Siracusa, sebbene con una gara in più. E' un punto a testa raggiunto a termine di un match che si è acceso soltanto nella seconda frazione di gara con continui capovolgimenti di fronte. Ci si aspettava qualcosa di più dagli Amaranto tornati ad allenarsi regolarmente dopo il Tour de Force dettato dai recuperi. Per la Vibonese è una buona prestazione avendo rischiato poco su un campo comunque difficile. Entrambe le squadre hanno motivo per ramaricarsi. La Vibonese può recriminare per un palo colpito da Ciotti in apertura di ripresa a portiere battuto e su un contropiede sprecato dallo stesso Ciotti. La regina dal canto suo reclama un rigore per una trattenuta sul Bolzicco. Alla trentunesimo la più nitida palla golla è sventata dal portiere rosso-blu del Bello che alza in angolo un tiro di Barillà. Abbiamo iniziato abbastanza bene i primi 15-20 minuti. Poi la regina ha preso un po' di coraggio, un po' di misure ed è quasi rimasta una gara un po' strana. Poteva esserci qualsiasi risultato. Quindi alla fine sono partite un po' delicate dove i giocatori in campo nonostante la mia squadra richiedo sempre di stare sereni e tranquilli nel giocare le partite lo so che poi subentra il fattore del risultato. Quindi la posta in palio era alta sia per noi e sia per loro. Quindi io credo che alla fine abbiamo incontrato un'ottima squadra, una buona squadra dove nonostante è stata costruita in fretta e furia con tanti problemi è una squadra che sta venendo fuori con giocatori importanti, giocatori che stanno a giocare a calcio una squadra organizzata quindi devo dire bravi ai miei ragazzi perché hanno tenuto botte anche nel momento in cui c'era da soffrire. Quindi secondo me è stata un'ottima partita, giocata forse con un po' di coraggio in più si poteva un attimino fare un qualcosina in più però non, ripeto, sono partite particolari che poi alla fine rischia anche di perdere quindi credo che sia stato un buon match. È un punto guadagnato o è un punto perso? Dipende, io credo sempre che quando si cerca di fare la partita perché noi abbiamo cercato sempre di fare la partita e comunque la classifica si muove e va sempre bene io cerco sempre di essere positivo con i secconi ma si va poco lontani quindi è un punto preso per certi versi anche col sacrificio perché poi la squadra ha subito un po' a tratti la regina ha preso un po' di campo, qualche calcio piazzato soprattutto sugli angoli quindi ripeto, da parte loro non è che hanno fatto chissà grandi cose c'è stato quel tiro di Barillà da fuori aria che ha fatto un ottimo intervento il nostro portiere un paio di occasioni nostre anche sull'angolo che abbiamo preso il palo, abbiamo sofferto il palo e quella ripartenza che Ciotti ha sbagliato il controllo se Ciotti riesce a fare quel controllo ci trova uno, anzi tre contro zero davanti al portiere ma ripeto, sono partite talmente delicate e particolari che la posta in palo è talmente tanta che a volte subentra anche un po' di paura ma ci sta, ci sta, fa parte del gioco